Benvenuti in un nuovo video affitti brevi in 30 giorni, oggi parliamo di marketing per affitti brevi. Abbiamo sentito milioni di volte di quanto il marketing sia importante per le aziende, le aziende muoiono se non fanno marketing e quello che sto facendo io stesso è marketing, è marketing per una delle mie aziende B&B Academy. A tal proposito cliccate sul tasto iscriviti per supportare questo genere di video gratuiti, per farmi capire che vi piacciono così che io continui a realizzarli e proprio perché il marketing è importantissimo penso che sia importante approfondire come funziona il marketing per affitti brevi. Perché? Perché ha una, come si può definire, metodologia di attuazione completamente diversa rispetto a qualsiasi altro business. Infatti, di norma, un qualsiasi business per fare marketing deve spendere la grana. Ad esempio, se hai un ristorante devi probabilmente fare dei volantini, pagare per la pubblicità su Facebook, prendere magari dei cartelloni pubblicitari e farti conoscere. Se hai un negozio online, un e-commerce, devi spendere tanti soldi in marketing su Facebook, su Instagram o pagare degli influencer per indossare i tuoi abiti. Se hai un esercizio commerciale dovrai probabilmente anche lì fare delle insegne, e tutta una serie di cose comunque per far conoscere il tuo business. E purtroppo il comune denominatore di questi business è dover spendere per fare marketing. Il grande vantaggio degli affitti brevi è che non devi spendere per fare marketing. Perché lavoriamo con piattaforme come Airbnb e Booking che di per sé hanno interesse nello spingere te, il tuo prodotto, la tua azienda o meglio il tuo B&B, perché poi il tuo B&B è il tuo prodotto ed è la tua azienda. E in virtù del fatto che hanno questi interessi non ti chiedono soldi, perché loro guadagnano una percentuale se tu ottieni prenotazioni. Quindi ovvio che se Airbnb guadagna un tot per cento da ogni prenotazione che arriva a Ludovico, sarà Airbnb stessa a dire io devo spingere gli appartamenti di Ludovico. E questo lo fa con tutti gli host del mondo, con tutti gli appartamenti del mondo. Ovviamente con dei criteri. Ci sono dei modi per andare incontro all'algoritmo di Airbnb, ovviamente, quindi filtri, avere dei titoli accattivanti, delle buone recensioni, ma se noi soddisfiamo questi requisiti delle piattaforme, che sono molto semplici in realtà, non sono nulla di trascendentale, allora sarà la piattaforma stessa a spingerci. Se non rispettiamo questi requisiti, quindi otteniamo tante recensioni negative, non rispondiamo ai messaggi degli ospiti, eccetera, 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 cose che se uno ha 5 minuti al giorno può tranquillamente fare, beh, se non ovviamente andiamo incontro all'algoritmo, appunto non facendo queste cose o ottenendo recensioni negative, a quel punto Airbnb o Booking non ci spingeranno. Ma noi siamo qui per guadagnare quegli affitti brevi, l'ultimo dei problemi sarà sicuramente il rispondere ad un messaggio, quindi non dobbiamo preoccuparci di ciò. Quindi abbiamo visto che il marketing per affitti brevi, fortunatamente rispetto ad altri business, si fa di investimento zero. Però online si trovano tanti consulenti che cercano di vendere la creazione di un sito web, magari per ottenere prenotazioni dirette, con la promessa di risparmiare sulle fee di Airbnb e Booking. Ma la verità è che nessuno troverà mai quel sito, quindi è completamente inutile che tu in questo momento ti costruisci un tuo brand con un tuo sito web e un tuo motore di prenotazioni per non dipendere da queste piattaforme, perché comunque volente o nolente il grosso delle prenotazioni arriverà tramite Airbnb e Booking. E anche se tu volessi poi spingere questo tuo sito web sfruttando l'advertising online, quindi Facebook ed Instagram, ti ritroveresti a spendere tantissimi soldi e a perdere poi quello che è un vantaggio rispetto agli altri business, ovvero il poter fare marketing ad investimento zero. Noi personalmente abbiamo creato un percorso dedicato tempo addietro che si chiama B&B Web Marketing. Ma perché non vi viene proposto da parte mia? O meglio, perché non ve lo sto cercando di vendere? Perché è un percorso dedicato a chi ha veramente decine, decine, decine di strutture ricettive, a chi magari ha anche un hotel dove l'investimento di una pubblicità viene spalmato su molti immobili. Ma se hai 5, 6, 7 case, è completamente inutile che tu faccia marketing online. Ed ecco perché in questo video mi focalizzerò principalmente sul come fare marketing sfruttando le piattaforme e quindi ancora una volta ad investimento zero. Posso sembrare prolisso, magari sembra che sto ripetendo le stesse cose più volte, ma è perché voglio che il concetto sia chiaro e per evitarvi fregature dove magari la gente vi spilla 1000-2000 euro per farvi un sito web che non servirà assolutamente a niente. Inutile dirvi poi come ultima premessa che all'interno di B&B Academy spieghiamo tutti i parametri per filo e per segno con precisione chirurgica necessari a comparire tra i primissimi risultati di Airbnb e Booking, però a livello di nozioni generali vi darò degli spunti già oggi qui in questo video. Regola numero uno è, come ho detto in precedenza, fare bene. Cioè, per quanto il tuo immobile possa essere anche un semplice monolocale in periferia, nei limiti del possibile cerca di far bene. Fa trovare un immobile pulito, una descrizione corrispondente alla realtà, descrivi il tuo annuncio nel miglior modo possibile, effetto delle traduzioni che siano coerenti con quello che poi l'ospite troverà. Quindi se tu già lavori bene, seguendo tutto quello che ti viene spiegato da noi di B&B Academy, l'80% del lavoro e del marketing è già stato fatto. Perché il marketing nel nostro caso coincide principalmente con quello che è l'annuncio su Airbnb e Booking. Il titolo che andrò ad inserire, la descrizione che andrò a fare, le immagini che andrò a scegliere, quello fa parte del concetto di marketing legato agli affitti brevi. In secondo luogo è importante avere delle foto di qualità, perché la comunicazione visiva è importante e quello che noi comunichiamo con le foto è tu dormirai qui. Quindi se le foto sono buie, di scarsa qualità, la percezione che avrà la nostra persona, il nostro potenziale cliente è di un immobile di scarsa qualità, ovviamente, e buio. Quindi è importante utilizzare delle immagini che siano state fatte a regola d'arte. Ma oltre a delle immagini qualitativamente buone, è importante anche saperle selezionare e ordinare. Infatti spesso il fotografo magari vi dà 60 foto e la gente prende le 60 foto e le butta lì. Ci sono due grandissimi errori che state facendo e che non vanno incontro alle strategie di marketing per affitti brevi. Il primo è quello di non fare selezione. Quindi per un monolocale, un bilocale o anche solo un trilocale avere 60 foto è completamente inutile e controproducente. È l'opposto del fare marketing, dove di norma less is more, dove la gente ha una soglia dell'attenzione molto bassa e quindi non se ne guarderà mai 60 foto. Quindi nuova regola è selezionate le foto. Secondo me per un monolocale 20 foto sono sufficienti, anche meno, anche 15. Per un bilocale andiamo dalle 20 alle 25, per un trilocale possiamo andare dalle 30 in su. Quindi la quantità è importante. E poi l'ordine. Immaginatevi che quando uno guarda un annuncio su Airbnb vuole vedere una sorta di tour della casa. È inutile mettere come prime 10 foto le foto dello stesso spazio. Quindi le prime 10 foto salone, 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 salone. Oppure peggio ancora, water, 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 water. Così come nessuno vuole iniziare il tour di una casa dal bagno. Come prima cosa magari mi farai vedere lo spazio in cui dormirò, poi magari passo al salone, poi passi alla cucina e poi passi al bagno. Se hai un terrazzo magnifico, una jacuzzi, una piscina, magari come prima foto metti quella. Però c'è gente che veramente mi mette le prime 5 foto tutte uguali. Quando in realtà devono rappresentare potenzialmente 5 spazi o 5 angoli diversi della casa. O chi mi mette appunto 5 foto del bagno di fila. Ma che me ne frega a me, non vengo lì per soggiornare nel bagno. Io soggiorno nell'immobile, mi fa piacere che ci sia un bel bagno, ma non è uno spazio fondamentale della casa. Quindi è importantissimo non solo selezionare la quantità, ma anche l'ordine delle foto. Successivamente uno degli elementi di marketing sui quali in assoluto più mi soffermo quando guardo un annuncio sono i titoli. Tantissime persone pensano a do il nome di mia nonna a questa casa, do il nome di mia mamma, della mia fidanzata, di mio fratello a questa casa. E quindi abbiamo casa Maria Luigia, casa Francesco, casa Maria Sole. I nomi propri su Airbnb non servono assolutamente a niente. Perché i nomi che utilizzereste voi per la vostra struttura ricettiva non sono nomi altisonanti, celebri, famosi. Non sono nomi che, ah, è quella casa lì, non è una casa famosa la vostra. Quindi occupare quel poco spazio che ci viene dato a disposizione nel titolo per scrivere appunto un nome proprio è completamente inutile. Quindi immaginatevi che io faccio una ricerca su Airbnb e mi ritrovo con casa Maria, casa Luigi, casa Maria Sole, casa Francesca. Chi se ne frega, ok? E siccome questo errore viene fatto da tantissime persone, noi dobbiamo spiccare. E a livello di marketing, per spiccare rispetto a tutti questi immobili con questi nomi completamente inutili, noi utilizzeremo il titolo per dare delle informazioni. Quindi magari il casa Maria lo trasformo in casa a due passi dalla metropolitana trattino 20 minuti dal Duomo. Piuttosto che casa molto luminosa con wifi, Netflix e aria condizionata. Quindi noi cerchiamo già dal titolo di offrire informazioni. E perché una cosa così banale e vincente? Proprio perché il 99,9% degli annunci in giro per il mondo non ti dà informazioni nel titolo. Scrive cose inutili, come appunto il nome proprio che gli è stato dato alla casa. Ed ecco che un potenziale ospite, tra un annuncio che ho scritto casa Maria o casa a due passi dal Duomo di Milano vicino alla metropolitana, ovviamente è più incentivato a cliccare sull'annuncio dove nel titolo mi comunica qualcosa. E già lì aumentiamo del 50% le probabilità che qualcuno scelga il nostro immobile rispetto ad un altro. E lo stesso poi si ripercuota ovviamente sulla descrizione. Quindi iniziare a scrivere casa Luigia porta questo nome perché Luigia era mia nonna al quale io ero tanto affezionato. Chi se ne frega. In questo immobile troverai una connessione wifi velocissima, perfetta per streaming o fare smart working. L'immobile si trova a pochi passi dalla metropolitana. C'è l'aria condizionata per l'estate e il riscaldamento per l'inverno. L'immobile è in uno stabile molto sicuro, potrai accedere a H24 grazie al self check-in. Quindi tutto lo storytelling legato al perché della casa, alla vostra storia, non gliene frega niente a nessuno. Andate dritti al sodo, la storia della città probabilmente già la conoscono, se stanno prenotando nella vostra città è perché sono già convinti di quel luogo. Adesso voi dovete convincerli a livello di immobile. Quindi cercate di impacchettare nel miglior modo possibile quello che è il vostro immobile e a fargli capire il perché io devo scegliere di soggiornare nel tuo immobile rispetto a quello di un altro. Quindi cercate poi anche di leggere le recensioni dei vostri competitor, quindi inutile compararsi con l'albergo a 5 stelle, ma se ho un bilocale guardo gli altri bilocali nella zona e mi focalizzo sulle recensioni negative. Magari tanti evidenziano su altri immobili la rumorosità. Voi ovviamente nel vostro testo scrivete invece che il vostro immobile è super silenzioso. Magari tanti si lamentano del fatto che sono, non lo so, senza l'ascensore. Se il tuo immobile è l'ascensore, fa presente che è uno dei pochi immobili in zona con l'ascensore. Andando avanti poi, parlando sempre della tematica di valorizzare il proprio immobile, troviamo le nomenclature, le diciture, le terminologie. Noi tutti abbiamo un letto a casa di norma matrimoniale e quindi tutti quanti scrivono letto matrimoniale per due persone o letto matrimoniale, comodo letto matrimoniale. Ma se il letto matrimoniale lo trasformassimo in un letto queen size, se la dicitura camera da letto la trasformassimo in master suite, se al posto di seconda camera da letto scrivessimo junior suite, stiamo dicendo la stessa identica cosa, ma utilizzando una terminologia un po' più raffinata, diamo un valore percepito molto più alto. Al posto di dire bagno in camera, bagno in suite. Al posto di dire soggiorno, zona living. Queste piccole accortezze permettono di dare un valore percepito più alto e di far sembrare un semplice monolocale una suite d'albergo. Quindi cercate di utilizzare una nomenclatura un po' più cool, passatemi il termine, per descrivere gli spazi della vostra casa. Anche questo, signori e signore, è marketing. E se non avete quel qualcosa di speciale, quindi se il materasso è un normalissimo materasso a molle e non potete scrivere che magari è un materasso di ultima generazione memory foam, non scrivete niente, piuttosto. Capite? Se non avete quella caratteristica in più, se avete il tv 32 pollici, che signori, al giorno d'oggi è minuscolo, scrivete semplicemente che avete una tv. Per scrivere che è 32 pollici, non mettete il numero di pollici, scrivete solo che avete una tv. Quindi talvolta bisogna valorizzare con della terminologia, ma talvolta forse stare zitti è meglio. Un altro consiglio per fare marketing è assolutamente quello di sfruttare non solo le caratteristiche dell'immobile, ma anche di ciò che è presente nelle vicinanze, o che è facilmente raggiungibile. Mi capita spesso di vedere, per conto di studenti B&B Academy, degli immobili che sono in posizioni della città, più sfortunate, però magari comunque sono vicino al capoligna della metropolitana che collega comunque il tutto facilmente al Colosseo di Roma, o allo Stadio San Siro di Milano, o al Duomo di Milano. Quindi anche se il vostro immobile è magari in una posizione sfortunata, enunciate quanto è facile raggiungere quel posto, quanto poco dista dal centro della città, quanto poco dista da quest'altra cosa qui. E quindi un contro lo trasformate magari in un pro. Quindi parlate sempre di cosa c'è nelle vicinanze e di come lo si può raggiungere. Chiaro che, non mi dovete scrivere, è a 80 minuti a piedi. Anche lì vi fate furbi, può essere a 20 minuti con i mezzi pubblici, a 15 minuti di auto, a 25 minuti in bicicletta. Fatevi furbi ed evitate di mettere dei numeri giganteschi, perché sennò diventa controproducente. Oppure, se bisogna cambiare tre mezzi pubblici, ma ci si mette 40 minuti, non scrivete 40 minuti con il tram 27, l'autobus 22, la metropolitana nera, perché può sembrare complicato. Limitatevi a dire che, con i mezzi pubblici, è facilmente raggiungibile in 40 minuti. Bisogna farsi furbi e cercare di rendere il processo di prenotazione e anche la percezione di quanto è semplice raggiungere un punto di vista il più liscio possibile. Dovete creare meno attrito possibile e far sembrare il tutto molto facile. Il tutto ovviamente senza mentire, quindi non dovete dire che ci si mette 20 minuti se ci si mette 40. Si dice che ci si mette 40, ma lo si dice in maniera furba, senza cadere nella menzogna, perché poi lì eventualmente si possono avere dei problemi con la piattaforma, recensioni negative, eccetera, eccetera, eccetera. In maniera furba, ma sempre veritiera. Un'altra strategia di marketing è quella di adoperare il self-check-in, perché permette agli ospiti di entrare e uscire di casa in maniera completamente autonoma ed è una grande differenziazione rispetto a tutti coloro che non lo offrono. Quindi, prenota il mio immobile, grazie al sistema di self-check-in potrai entrare e uscire di casa come quando vuoi, senza la necessità che ci sia qualcuno fisicamente lì a reperire le chiavi. Vuoi arrivare alle 3 del mattino? Puoi farlo. Vuoi andartene alle 5 del mattino? Puoi farlo. Vuoi andartene anche sotto la tempesta di neve che magari io non riesco a uscire di casa per venire lì? Puoi farlo. Al contempo, hai bisogno di un aiuto con le valigie e preferisci un check-in dal vivo? Possiamo organizzarlo. Quindi, lasciare al cliente la possibilità di scegliere dandogli due opzioni. Una, potenzialmente più comoda, un'altra, magari, può non sembrare comoda come il check-in fisico, ma l'occorrenza, se ne hai bisogno, io comunque ci sono. Andando avanti, nelle strategie di marketing che sono infinite, ripeto, dentro B&B Academy ne parliamo per ore e ore e ore, abbiamo anche la possibilità di inserire una smart TV, quindi tanti hanno una TV normale, ma quasi nessuno ha una smart TV. Il mio consiglio, ovviamente, è quello invece di utilizzare una TV intelligente dove si può vedere YouTube e Netflix. E se non ne avete una, vi basta acquistare su Amazon dispositivi come l'Amazon Fire Stick che, con 30 euro, rende un normalissimo televisore un televisore smart. Ovviamente, dovete fare bella mostra del Wi-Fi e ricordatevi sempre di spuntare tutti i filtri. Ad esempio, se avete un terrazzino, potete spuntare il filtro per fumatori. Così facendo, vi porterete a casa, attraverso questa, diciamo, strategia di marketing, tutti coloro che fumano. È ovvio che il filtro per fumatori non significa che queste persone possano fumare in casa, semplicemente che in un qualche angolo della casa è possibile fumare. Poi, nelle regole della casa, specificate dove. Però intanto, grazie a questo filtro, vi state portando a casa tutti coloro che fumano, che sono comunque una vasta platea di persone. Alexa, quanti sono i fumatori nel mondo? Secondo un partecipante di Alexa Anza, i fumatori nel mondo sono circa 1,3 miliardi. A proposito, hai una roba... Alexa, stop! Bene, secondo l'intelligenza artificiale di Amazon, i fumatori nel mondo sono 1,3 miliardi. Quindi capite che inserire questo filtro o meno all'interno di Airbnb vi può potenzialmente esporre ad un pubblico o meno di 1,3 miliardi di persone. Quindi 1,3 miliardi di persone fumano pazzesco e sono potenzialmente o non potenzialmente nostri ospiti in base a un semplice filtro che noi possiamo spuntare sulla piattaforma. Stiamo giungendo al termine del video quantomeno delle cose che ho deciso di dirvi in questo video e le ultime due voci di cui voglio parlare sono ovviamente le valutazioni positive. Sono la miglior pubblicità che voi possiate avere. Quindi cercate di ottenere sempre valutazioni positive. Quindi 4,5 stelle su Airbnb e da 7 a 10 su Booking come valutazioni. Se avete ottenuto una recensione negativa potete chiedere la rimozione all'ospite o convincerlo comunque a modificare il voto che vi ha dato magari andandogli incontro con un rimborso parziale piuttosto che cercando di capire soprattutto qual è stato il problema per far sì che questo non si ripeti perché poi possiamo attuare tutte le strategie di marketing del mondo ma se ovviamente le recensioni sono negative nessuno prenoterà mai questa casa ed infine fate delle traduzioni manuali nelle lingue più importanti ovvero inglese e spagnolo perché? Perché se lasciamo che sia Airbnb o Booking a tradurre il nostro annuncio c'è il rischio che vengano fatti degli errori grossolani e che renda diciamo l'annuncio meno efficace in queste altre lingue è capitato spessissimo di trovare degli annunci che in italiano non facevano nessun tipo di non avevano nessun tipo di senso logico perché erano stati tradotti da il traduttore automatico e quindi io non capivo cosa stavo prenotando ho lasciato stare ho preferito non prenotare ed ecco perché tutti i miei annunci hanno la traduzione manuale fatta da me da traduttori professionisti non solo ovviamente in italiano che è la mia lingua madre ma anche in spagnolo ed inglese parlo lo spagnolo e l'inglese assolutamente sì ho preferito comunque far fare il tutto a dei professionisti assolutamente sì proprio perché una semplice parola fuori posto può generare confusione nel potenziale cliente e il cliente finisce per non prenotare e quindi per me è una diciamo pessima situazione per me è una situazione svantaggiosa ecco se un ospite non prenota per una stupidaggine del genere quindi investo sempre in dei traduttori è un costo veramente esiguo e permette poi di avere in realtà molte più prenotazioni spero che questo video vi sia piaciuto qua in descrizione trovate un contenuto gratuito un ebook che abbiamo preparato per voi e la possibilità di prenotare una consulenza gratuita con il mio team per capire se c'è spazio per voi in accademia e soprattutto se il nostro percorso fa il caso vostro iscrivetevi al canale pollice all'insù e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo video io sono Ludovico Cianchetta Vasquez fondatore di B&B Academy e ci vediamo nella prossima puntata ciao ciao ciao